allora nipotini sempre qualche secondo di pazienza per passare al video pazzo di luna marì imperdibile questi sono ignafio cecilia nel frattempo e luca che hanno avevano per benissimo vabbè lui sapete che ha un debole o per ignafio da sempre cecilia sta benissimo invece con questo completo in pelle la trovo molto elegante ecco vi lascio a luna marì ciao c'è qualcuno che è felice qui sei felice alla prossima ciao